Dunque, innanzitutto devo dirle che anche lei gode di buona salute, vedo che ha una bella cera, nonostante i compiti molto ardui, è sempre in viaggio, un giorno in paese, un giorno in un altro, in una città, una, poi un altro giorno in un'altra città. Ecco, come fa a mantenersi così in forma? Sono abbastanza abituato a lavorare, poi forse, non so, il malocchio non mi arriva. Questo significa allora che lei si considera un uomo fortunato, lei crede nella fortuna? Un po' di fortuna credo che sia indispensabile per tutti, io non credo di averne avuta molta, ho cercato quando possibile di aiutarla e spero di averne ancora. Senta, lei per mantenersi in forma comunque al di fuori di quella che può essere la fortuna, immagino che farà anche un po' di ginnastica, fa qualche esercizio, footing per esempio, non so, cosa fa? Veramente no, perché un tempo camminavo abbastanza perché credo che faccia del bene, poi c'è stato il periodo del terrorismo a Roma, io andavo in periferia la mattina, facevo sei chilometri piuttosto bene, perché in un certo momento il proprietario della pineta dove io e altri andavamo la mattina a camminare fu rapito, non se ne è saputo più niente, allora preferisco magari prendere qualche chilo di più, ma non avere di rischi di questo genere. Sì c'è la ciclette, queste storie uno la compra, la guarda un poco, poi la regala a qualcuno. Senta, una volta, io mi ricordo in un'intervista che ho sentito, lei si lamentava del fatto che sovente soffriva di mal di testa, le veniva mal di testa in icrania, ecco ne soffre ancora? Questo è un bene familiare perché mio nonno, mia mamma, io, i miei figli abbiamo una tendenza al mal di testa, ne ho sofferto parecchio, adesso ne soffro un po' meno, ho smesso di prendere medicinali perché ne prendevo troppo, faccio un po' di fisioterapia giapponese un paio di volte alla settimana, attiva abbastanza bene la circolazione, convivo abbastanza con il mal di testa, adesso è molto meno. Fisioterapia giapponese, massaggiatori giapponesi. Sì, sono due sorelle giapponesi che fanno a Roma questo shiatsu, questo massaggio e in più ti stirano come se fossi una camicia, con un ferro caldo, ti stirano piuttosto bene e questo mi fa bene. Senta però a proposito di questo mal di testa che le veniva sovente, lei non pensa che sia dovuto anche, perché anche a me succede la stessa cosa, io non porto mai il cappello, ma nemmeno lei, non l'ho mai visto col cappello, non può essere dovuto magari a correnti d'aria, cose di questo genere, perché non porta mai il cappello lei? Non sono abituato, mi trovo tanto bene così tutto sommato, mi sapebbe un po' così di essere abbastanza eccentrico, mentre non è così poi, ma mi sta abbastanza bene senza, un po' di capelli ce li ho, forse se fossi calvo preferirei portarlo. Poi è sempre ben pettinato, direi sovente quando vedo che a terra è un aeroporto dove c'è sempre vento, lei non si spettina mai? No, ma questo non è vero, guardi ho molte altre doti ma questa no, eppure io non l'ho mai visto spettinato, per avere un bravo parrucchiere probabilmente. Senta, io so che lei è un grandissimo lavoratore, tutti lo dicono, è vero che lei si alza tutte le mattine alle 5 e mezza? Sì, ma non mi dà nessuna fatica perché dormo molto bene, allora mi bastano poche ore, dormo molto intensamente, salvo qualche volta eccezionalmente no, ma se no, ritengo, anche quando ero studente facevo così, ritengo che non è tanto il numero di ore che uno dorme, ma una certa intensità nel sonno e mi alzo molto riposato. Quindi va a letto presto oppure va a letto tardi comunque? Verso mezzanotte. Quindi dorma solo 5 ore, 5 ore e mezza? Sì, ma bastano. Ho capito. Senta, ma immagino che per tenersi su dovrà anche seguire una buona dieta, ecco, lei mangia molto? No, molto no perché specialmente non facendo ginnastica, non facendo sport bisogna stare piuttosto attenti altrimenti diventeremo delle botticelle, ma però varia se mi trovo in compagnia, mangio volentieri, se un giorno normale cerco di mangiare poco e specialmente a mezzogiorno di essere molto leggero. E coloso, sentite, vero? E sì, anche perché forse da bambino non avevo modo di mangiare molti dolci, adesso ne avrei molta voglia, ma adesso devo stare attento per altri motivi.